Sono Agostino Botti della sezione Ampi di Francoforte e ringrazio i nostri ospiti presenti a questo incontro, la professoressa Vinci, la dottoressa Kersevan e il professor Focardi. Oggi parleremo come illustrato nella locandina dell'evento di confine orientale e persecuzione degli islai. Questo evento segue l'incontro del mese scorso tenuto in occasione del Giorno del Ricordo delle Foibe e dell'Esodo Giuliano d'Almata. Stasera inquadreremo storicamente i fatti che conduscono a questi episodi e cercheremo di capire come essi siano entrati nella memoria collettiva italiana in maniera non condivisa. I nostri relatori sono quindi, abbiamo detto, Filippo Focardi, ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Padova, direttore scientifico dell'Istituto Ferruccio Parri, che è la rete degli istituti della storia della resistenza. Focardi è specializzato in storia della memoria, è autore del saggio Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, uscito per la terza nel 2016. Questo volume è noto anche in Germania avendo fatto Focardi delle presentazioni. Qui io vedi quella di Darmstadt, se non sbaglio. quest'anno, anzi alla fine dell'anno scorso, è uscito un nuovo volume di Focardi nel cantiere della memoria Fascismo, Resistenza, Shoah e Foibe. Questo volume diciamo che ripercorre proprio l'insieme delle memorie collettive che ci sono in Italia sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza eccetera. Alessandra Kersevan è titolare della casa editrice KV di Udine, una casa editrice specializzata nella pubblicazione di volumi sulla storia della Venezia Giulia. La dottoressa Kersevan è l'autrice del noto libro Lageri italiani, pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943. Anna Maria Vinci, già docente di storia presso l'Università di Trieste, specialista di storia del Friuli, Venezia Giulia e confine orientale. È componente del direttivo dell'Istituto per la storia della Resistenza del Friuli Venezia Giulia, del quale è stata presidente negli anni scorsi, spero di non sbagliare. È autrice di un testo fondamentale per la storia di questa regione. Sentinelle della Patria, il fascismo al confine orientale 1918-1941, uscito per i tipi di La Terza. Una piccola nota di servizio. In basso nella barra di Zoom c'è il pulsante Q&A o DNR, domande e risposte. Chi vorrà porre delle domande le può scrivere utilizzando questo pulsante e noi cercheremo nel limite possibile di dare risposte. Adesso stiamo raggiungendo il numero 100 dei partecipanti e coloro che superano questo numero verranno girati su YouTube dove c'è la diretta. Quelli che saranno su YouTube purtroppo non potranno fare domande. Bene, adesso diciamo che possiamo cominciare e io mi permetto di dare un piccolo contributo personale a questo argomento. Io sono nato a Roma durante la guerra, quindi fin da bambino ho sempre sentito parlare di Trieste, zona A, zona B, governo militare alleato, territorio libero di Trieste, eccetera. Ho visto l'arrivo dei profughi dall'Iste e dalla Dalmazia a Roma che fu costruito un villaggio Giuliano Dalmata sulla via Laurentina a Leo. Il mio quartiere, che tutto si chiama quartiere Trieste, era percorso quando ero ragazzo, a tempo delle scuole medie, da cortei e questi cortei che chiedevano, diciamo, la riunificazione di Trieste all'Italia, ma questi cortei avevano alla testa sempre i neofascisti del movimento sociale. Le acque poi si sono un pochettino calmate, usiamo questo termine, dopo il memorandum di Londra del 1254 che affidava l'amministrazione di Trieste e della zona A all'Italia, mentre la zona B rimaneva sotto l'amministrazione jugoslava. Ma principalmente dopo il trattato di Osimo del 75 che aveva definitivamente chiuso la questione del confine tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Jugoslava, io pensavo che ormai fosse una questione assodata, io pensavo così, e che fosse ormai soltanto un argomento di discussione per gli storici, per la memorialistica e per i libri di storia. Quando, possiamo dire quasi all'improvviso, sotto i governi Berlusconi, il quale aveva sdoganato i neofascisti, fu approvata nel 2004 la legge istitutiva del 10 febbraio, quale giorno del ricordo delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata e questo era quasi a voler fare, mettere un contraltare, un pandan alla giornata mondiale della memoria della Shoah, che è del 27 gennaio. Quindi, nell'arco di 15 giorni, ogni anno, si confrontano due fatti e questo confronto, diciamo, dà la stura ad ogni possibile discorso nazionalista totalmente avulso dalla realtà storica, come se l'esodo delle popolazioni istiane dalmate di lingua italiana non fosse anche la conseguenza di una guerra di aggressione, voluta da Mussolini ma persa da tutta l'Italia. Questa settimana è uscito un articolo su Repubblica, scritto a Simonetta Fiori, intitolato se è lo Stato a riscrivere la storia. Questo articolo parte del Libera del 24 febbraio della Regione Veneto, del Consiglio regionale Veneto, che ha approvato una mozione con cui si chiede alla Giunta di sospendere ogni tipo di contributo a favore di quelle associazioni che si macchiano di riduzionismo e di negazionismo nei confronti delle foibe e dell'esodo istriano, Fiumano e Dalmata. La stessa cosa è stata anche nel 2019 dalla Regione Fiumano e Dalmata. Ora, praticamente cosa bisogna dire? Coloro che dicono che gli infoibati sono meno di 12.000 e che gli italiani costretti all'esodo sono meno di 350.000, niente, questi sono dei negazionisti. Contro questa mozione all'Università di Padova è stato preparato un appello per il Presidente Mattarella e il firmatario di questo appello è il nostro Filippo Focardi, il primo firmatario di questo appello. Bene, io direi che noi possiamo adesso passare la parola alla professoressa Vinci. Io partirei da questo, da questa famosa fotografia che c'è anche nella nostra locandina, che è l'incegno del Narodnidom, la casa della nazione di Trieste, dato alle fiamme dai squadracci fasciste nel 1920. Dottrattutto impedirono anche che i pompieri intervenissero per spegnere l'incegno. Prego, Anna Maria Vinci. Io volevo dire che noi tutte queste questioni le viviamo in diretta e quando arriva febbraio se abbiamo capelli ci mettiamo le mani nei capelli, nel senso che col 10 febbraio cominciano le polemiche più assurde, più violente intorno a queste questioni, solo che secondo me bisogna cercare di tenere, come si suol dire, la barra al centro. Cioè bisognerebbe e bisogna come storici avere così la prontezza, la capacità di mantenersi in equilibrio, cioè un equilibrio possibile, nell'equilibrio possibile. Noi come istituto abbiamo pubblicato un vademecum che spero possiate leggere in rete, reperire in rete ed è un tentativo, uno dei molti tentativi che il nostro istituto fa da parecchi anni a questa parte per appunto cercare di un equilibrio tra le cose, torno a ripetere la parola equilibrio, cioè cercare di valutare i fenomeni con gli strumenti della ricerca, con gli strumenti anche delle testimonianze mantenendo proprio una posizione critica e sempre aperta alla ricerca, al rischio della ricerca. Questo mi sembra importante da sottolineare perché è ben vero che la giornata del ricordo è stata istituita con finalità molto chiare, come ha detto il mio predecessore, chiamerò professor Botti, e così va bene. E' stata istituita con quell'intento, è anche vero però che c'era la necessità di ascoltare e di studiare tutti questi fenomeni dell'esodo, non perché non se ne sapesse nulla o delle foibe, per dire i primi articoli sulle foibe comparvero sul popolo di Trieste che quella volta era stato assorbito dal quotidiano locale, il piccolo di Trieste, è già nel 43, quindi subito alle prime foibe e subito se ne fece propaganda, ma per capire anche le dite dei molti che se ne andarono, dei molti che rimasero feriti da queste situazioni. E teniamo conto, proviamo a leggere Tomizza per dire, solo per dirne uno, teniamo per dirne una, oppure le due scrittrici dell'Ida Bilani e l'Anna Bravo, no, Anna Bravo non ricordo, insomma, per capire anche la sofferenza di queste persone, molte delle quali effettivamente erano al di fuori dalle logiche dello scontro politico, quindi bisogna stare attenti perché questa è una storia estremamente complessa che va valutata tenendo conto di cosa è stato il fascismo al confine e tenendo conto di che cosa il fascismo ha comportato per queste zone. Poi però la seconda pagina è anche tener conto delle vite, delle sofferenze, dei drammi che sono stati vissuti da tante persone che non c'entravano niente o entravano nell'ideologia, nel mondo fascista di traverso, non direttamente, erano a volte contadini, erano persone qualsiasi, come succedeva anche per, come era successo anche per il fascismo in Italia, cioè noi parliamo tanto di totalitarismo fascista ed è vero, ma il totalitarismo fascista si giunge per gradi, non c'è la stessa esperienza in Italia e in Germania non sono la stessa cosa, per quanto appunto si possa parlare di totalitarismo fascista ma da un certo punto in poi, almeno secondo i giudizi di parecchi storici e giudizi sempre rivedibili in qualche maniera perché la ricerca è sempre rivedibile. Per noi il problema più grosso non è tanto il negazionismo, l'accusa di negazionismo, ma l'accusa di riduzionismo, no? Cioè questo fatto che secondo cui noi vogliamo, gli istituti della resistenza vogliono ridurre il peso e la portata di queste cose potrei raccontarvi una serie di episodi in editing riguardo a queste cose qui ma semmai rimando a dopo noi non abbiamo mai ridotto diciamo la portata di questi fenomeni e abbiamo cominciato a studiare il problema delle foibe e il problema dell'esodo già negli anni 70 quindi non ci si può accusare di riduzionismo neanche per idea, però io sono stata chiamata a parlare del fascismo di confine quindi non entrerò semmai dopo il fascismo di confine è un diciamo un titolo un titolo simbolico che il fascismo stesso si dà si caratterizza il fascismo qui si caratterizza con questo con questo termine fascismo di confine in modo da poter collegare il tema della patria della nazione anzi direi del nazionalismo con il tema del fascismo sono due elementi estremamente importanti perché noi in questa zona soprattutto non arriviamo al fascismo così come si arriva da altre parti in Italia ma arriviamo al fascismo attraverso le esperienze nazionalistiche le esperienze nazionalistiche in una zona come la Venezia Giulia che allora diciamo prima della prima guerra mondiale si chiamava litorale austriaco e le esperienze nazionaliste cominciano ad essere vivacissime come lo erano in tutto l'impero austro-ungarico tra la fine dell'ottocento tra la seconda metà dell'ottocento e gli inizi del novecento adesso non vi voglio fare tutta una lunga tiritera su questa cosa però i nazionalismi l'età dei nazionalismi è più o meno questa in un impero multietnico multinazionale con molte religioni con una presenza significativa di ebrei ad esempio che aveva un peso non da poco in quella realtà il nazionalismo nasce via via cominciando adesso mi riferisco all'impero austro-ungarico ad alcune zone dell'impero austro-ungarico cominciando in maniera molto vivace in alcune zone come ad esempio Praga e poi diffondendosi anche nelle altre parti del grande impero il nazionalismo significa diciamo io vedo che avete un'immagine di Mazzini nella vostra non posso dire assolutamente che cominci con Mazzini per carità però già Mazzini parla di una missione dell'Italia di una missione diciamo grande importante dell'Italia dopodiché queste affermazioni questi presupposti diventano un'altra cosa ma perché diventa un'altra cosa lo sviluppo dei ceti sociali all'interno dell'impero via via che nel mondo slavo ad esempio e uso slavo tra virgolette perché dovrei usare sloveno, croato eccetera eccetera ma cercate proprio per semplificare via via che si formano delle borghesia importanti intorno alle prime banche che vengono istituite intorno a un'imprenditoria di base che si radica nelle città che si diponde poi anche nelle campagne via via che si forma questa borghesia si apre anche una concorrenza con la realtà italiana e sono parole di un grandissimo scrittore e pensatore italiano, insomma italiano, Angelo Vivante che racconta proprio lo scontro tra le diverse borghesia su questi temi che ci fosse poi una unità totale tra il cosiddetto proletariato è un po' tutto da dimostrare perché anche all'interno del proletariato evidentemente col tempo cominciano ad esserci delle divisioni anche di tipo nazionalistico il partito socialista di marca austro-marxista fa di tutto in tutto l'impero per tentare di contenere le spinte nazionaliste che si stanno diffondendo fa proposte assolutamente concrete, assolutamente importanti evidentemente riesce ma riesce solo fino ad un certo punto su questo terreno diciamo che andrebbe meglio specificato si innestano poi altri tipi di correnti, altri tipi di correnti di pensiero in Italia c'è il cosiddetto irredentismo, è una Venezia Giulia scusate ma anche in Italia il cosiddetto irredentismo cosa vuol dire? Anche questa è una parola che viene dalla religione redenzione, il redento è colui che sale nell'alto dei cieli il redento è colui che non è nell'alto dei cieli quindi bisogna andare a redimere o bisogna che si redima in qualche modo da solo quindi sono parole che sono inventate nel 1870 e queste parole, le parole secondo me i linguaggi diventano linguaggi importanti perché sono linguaggi che poi anche al di là della stampa che era molto più letta rispetto ad oggi ma si traducono poi in elementi di propaganda in elementi di sollecitazione ai movimenti insomma al movimento, alla politica va bene, comunque direi che saltando più e pari numerose questioni si arriva alla prima guerra mondiale che è veramente il momento di demarcazione più importante che esiste naturalmente per tutta Europa e anche per questa realtà per questa realtà che era una realtà multietnica e multinazionale la guerra oltre alle distruzioni e al disagio sociale che secondo me è ancora poco studiato lascia ancora molti margini di ricerca la guerra divide ovviamente divide e crea nello stesso tempo una violenza che segue alla guerra in questo clima di violenza che è un po' lo stiamo esaminando con la ricerca perché nemmeno questa è una cosa da poco che tipo di violenza violenza politica sì, certamente violenza politica ci sono le squadre dei nazionalisti ci sono le formazioni nazionaliste non ancora fasciste che si scontrano con il mondo operaio il mondo socialista manifestazioni di tutti i tipi però c'è anche diciamo la violenza che nasce tra chi? tante volte tra i giovani che non hanno nemmeno partecipato alla guerra e che quindi come dire subiscono il lutto delle famiglie rielaborano il lutto delle famiglie trovando nella violenza un momento di sfogo certamente quella che viene adesso chiamata la Venezia Giulia in realtà questo nome è un nome dato precedentemente nel 1866 ma insomma se mai ci ritorneremo questo tipo di violenza questo tipo di scontri molto accentuati che arrivano a manifestazioni sparatorie e cose varie vede le autorità politiche e vede le autorità diciamo che italiane che sono arrivate nel territorio dell'ex litorale austriaco e adesso Venezia Giulia assolutamente impreparate assolutamente impreparate c'era stato e continuò ad esserci per un certo periodo un servizio in formazione dell'esercito che mandava continuamente relazioni già durante la guerra al governo centrale doveva interessarsi solo all'ufficio Ito era chiamato doveva interessarsi solo delle truppe delle condizioni delle truppe in guerra in realtà manda informazioni su tutte le condizioni che esistevano sul territorio con particolare attenzione al mondo slavo e considerando e cominciando a considerare già con la guerra quelle che erano le ipotesi nazionaliste di antislavismo quelle che erano state le ipotesi nazionaliste di antislavismo perché in questi uffici informativi dell'esercito andavano a finire molti degli irredentisti nazionalisti e molti dei nazionalisti locali però le autorità arrivano diciamo in maniera così in maniera poco preparata teniamo conto che lo Stato liberale italiano è uno Stato liberale assolutamente debole soprattutto poi dopo la guerra e quindi succede che nelle manifestazioni di contrapposizione tra una parte e l'altra lo Stato italiano non mantiene attraverso le forze dell'ordine naturalmente ma nemmeno attraverso le altre istituzioni non riesce a mantenere una posizione di equilibrio e di fermezza individuando quelli che potevano essere i responsabili principali e frenando tutto e frenando questa ondata di violenza che si scatena nella Venezia Giulia c'è da dire anche un'altra cosa che gli irredentisti nazionalisti hanno così questo empito di violenza e nello stesso tempo però all'interno del partito socialista non abbiamo più le posizioni moderate dell'austromarxismo ma abbiamo le posizioni massimaliste che i vecchi socialisti non riescono più a capire quindi le radici della guerra e del dopoguerra sono radici che influenzano molto e radicano sono il terreno diciamo di cultura di quello che sarà successivamente il fascismo il fascismo per farla molto breve nasce qui presto nasce nel 1919 a un anno di distanza abbiamo già il giornale il popolo di Trieste abbiamo la formazione delle squadre con un numero significativo di iscritti iscritti al movimento fascista circa 15.000 persone e gli attivi diciamo quelli che vanno a formare le squadre vere e proprie sono sono circa 150 150 persone anche qui sarebbe da capire e lo stiamo facendo chi sono costoro insomma chi sono questi giovani non giovani famiglie intere fratelli cioè bisogna individuare quasi persona per persona per arrivare a cogliere il tessuto sociale che ci sta che ci sta sotto ci sono come dire episodi molto di bastonature manifestazioni ci sono armi che girano ovviamente dopo la guerra ci sono armi che girano l'episodio più importante e l'anno scorso c'è stata la commemorazione il famoso incendio del Narodnidom all'interno del quale c'era questo albergo il Balkan e c'erano poi però anche molte come dire sezioni sportive culturali e all'interno di questa del Narodnidom c'erano non solo gli sloveni ma anche i croati ad esempio ed era stato costruito questa casa che poi è stata ribessa in ordine negli ultimi anni da Max Fabiani un grandissimo un grandissimo architetto urbanista che lavorava che aveva lavorato a Praga e che poi è venuto a lavorare a Trieste questo tenete conto di questo fatto il Narodnidom è in centro a Trieste sembra una cosa da poco e non lo è è in centro a Trieste perché il mondo slavo torna a ripetere la semplificazione vuole in qualche modo dimostrare alla città che esso è un elemento importante per la città stessa un elemento fondamentale per la città stessa tenete conto che una cosa di questo genere una scelta di questo genere è una scelta che naturalmente fa rispare i preli ai nazionalisti perché è una sorta di sfida è impossibile che al centro della città e non nelle campagne ci sia una realtà di questo genere e quindi quella che poteva essere considerata una sfida in qualche modo contenibile nell'ottocento con l'avvento delle squadre fasciste non lo è più chi organizza le squadre fasciste bisogna sempre tener conto anche di queste cose e Francesco le organizza Francesco Giunta che viene dalla Toscana che si è fatto anche lui attraverso la guerra partecipato a questi famosi uffici ito di cui vi parlavo prima e lui come dire ha una capacità oratoria non di piccolo peso e riesce a guidare a organizzare a organizzare il movimento fascista tenete conto che se l'incendio del Naro di Dome del 13 luglio 2020 1920 abbiamo alle spalle diciamo abbiamo alle spalle tutta l'impresa danunziana l'impresa danunziana che per noi e per questa realtà regionale ha avuto un significato molto ma molto forte perché con Danunzio andarono moltissimi giovani moltissimi irredentisti nazionalisti ma anche democratici cioè anche figure come dire Stuparic che avrete sentito nominare o anche personaggi che poi andarono a finire nella resistenza e morirono e morirono alcuni morirono nei campi di concentramento cioè era una fortissima attrattiva Danunzio modifica non solo nella nella letteratura nei romanzi modifica il linguaggio la comunicazione e questo fatto è assolutamente importante per per la realtà per la realtà per il mondo fascista quando scoppia l'incendio del Naron di Dom noi siamo ancora in una fase in cui naturalmente nel 20 il regime cioè c'è il movimento fascista non c'è il regime non c'è ancora la dittatura però qui ci sono governi provvisori e nella Venezia Giulia ci sono governi provvisori prima un governo militare che è retto da un personaggio moderato e diciamo molto attento a quello che stava avvenendo Petiti di Roretto e poi viene retto invece da due diciamo il presidente il vicepresidente da due civili i quali sono molto favorevoli a questo disordine ordine fascista se mi è possibile se mi è possibile fare questo tipo di accostamento l'incendio l'incendio è il clou diciamo viene viene ricordato da Pachor in un bellissimo in un bellissimo libro il rogo nel porto però l'incendio comporta anche e quindi da questo non è un fatto casuale neanche per niente perché comporta tutta la distruzione di edifici del mondo prima di arrivare diciamo al centro della città e alla Naro Dunidom c'è c'è una manifestazione che si prepara in piazza Unità che sta proprio vicino al mare insomma in una zona oltremodo centrale di Trieste e da lì si sfila si crea una sfilata e si cominciano a incendiare a boicottare a rovinare le sedi ad esempio degli avvocati degli avvocati dei sloveni degli avvocati degli avvocati croati e delle sedi slovene e croate quello che interessa a questo primo fascismo è distruggere diciamo la rete delle istituzionale delle realtà locali istituzionale significa rete la rete sindacale la rete culturale i giornali distruggere questa distruggere questi elementi di accrescimento culturale politico la stessa cosa fanno le squadre fanno nei confronti del movimento socialista cioè loro dicono sempre noi non ce l'abbiamo col popolo noi siamo per il popolo però distruggiamo le sedi sindacali le sedi delle cooperative le sedi delle delle assicurazioni sociali ad esempio che erano collegate al che erano collegate al partito socialista e di questo incendio noi sappiamo sappiamo e abbiamo testimonianza della dell'assoluta diciamo assenza delle delle forze dell'ordine e non viene fatto nessun processo per capire quali fossero chi fossero i colpevoli e quindi resta insomma come l'emblema resta come l'emblema della della nascita del del fascismo di della nascita del fascismo di confine bisogna aggiungere una cosa e dopo ve la spiegherò questo è un esempio della nascita pochi anni dopo viene completamente dimenticato cioè uno si aspetterebbe ci si aspetterebbe che ogni anno venisse fatta una cerimonia intorno al balcan distrutto scusate al narodnidom distrutto in realtà questo non viene fatto e ci sono dei motivi per cui questo non viene fatto comunque una volta insediato il fascismo al potere e soprattutto diciamo dopo il delitto Matteotti 1925 l'attacco alle popolazioni slovene e croate poi nell'Istria è molto pesante si comincia diciamo quali sono gli obiettivi fondamentali innanzitutto il clero il clero sloveno e croato viene preso di mira perché il clero sloveno e croato rappresenta soprattutto nelle campagne non tanto nelle città ma soprattutto nelle campagne rappresenta la punta di diamante diciamo di una classe dirigente che è importante per quel popolo i termini che vengono usati per la disarticolazione di questo mondo i termini sono molto duri hanno aspetti raziali molto profondi naturalmente bisogna togliersi dalla testa che l'unico modello raziale sia quello tedesco ne esistono tanti e quello italiano ha delle connotazioni particolari comunque contro il cleroslavo e questo diciamo andare contro il cleroslavo avviene anche prima dell'avvento del fascismo e si chiudono le scuole slovene croate e si cambiano i nomi e si cambiano i nomi delle persone all'interno delle famiglie poi si fa un pasticcio verosimile per cui alcuni mantengono un cognome di un tipo altri vengono italianizzati in un'altra maniera non si può parlare in pubblico in sloveno e in croato e poi naturalmente la topografia cambia e quello che poi diventa assolutamente significativo è la persecuzione vera e propria insomma la persecuzione che non è fatta solo dalla negazione dei nomi dalla negazione dell'identità di questo popolo che vive dentro anche dentro la città di Trieste non solo nelle campagne ve l'ho ripetuto l'ho fatto capire più volte e cominciano le persecuzioni vere e proprie gli arresti i confinamenti il confino gli avvisi di polizia e tutte e tutte queste cose qui che si accentuano in maniera particolare nel momento in cui il popolo gli sloveni e i croati cominciano a pensare a delle forme di opposizione le forme di opposizione che si registrano in maniera più eclatante diciamo sul piano politico più evidenti sono quelle che vengono organizzate da un gruppo denominato Tigre che è una sigla che significa Trieste Gorizia Rieca Fiume e Istria e questo gruppo è fatto da giovani questi giovani sono antifascisti e anche qui vedete la complessità poi di queste storie hanno degli elementi di nazionalismo e voi direte cosa potevano fare se i fascisti erano così aggressivi e dovevano collegarsi ad alcune idee forti tenete conto che finché vigeva il regime di Tito gli storici sloveni e croati non potevano parlare di questa formazione cioè questa formazione era messa completamente all'angolo ed è una formazione importante che crea naturalmente disturbo alla dittatura fascista ci sono degli episodi di scontro violento sia in Istria che poi anche a Trieste con processi che vogliono essere esemplari cioè cosa vuol dire vogliono essere esemplari vogliono fare in modo che tutta l'Italia sappia che c'è questo nemico interno obrobrioso che è rappresentato appunto dagli Slavi un nemico interno che si collega secondo il fascismo dittatura diciamo al nemico esterno che è la Jugoslavia che poi con la Jugoslavia si facessero anche degli affari commerciali era un'altra cosa comunque la divisione politica era questa e quindi abbiamo dei processi molto significativi tra il 29 e il 30 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato si sposta si sposta qui e le pagine dei giornali sono pieni di insulti di bisognerebbe proprio esaminare parola per parola quello che dicono perché effettivamente è una cosa che una cosa che che resta credo nell'animo di chi ha vissuto queste di chi ha vissuto queste condizioni io ricordo un mio professore che sicuramente Focardi ricorderà Enzo Collotti lui venne a Trieste nel 1939-40 a ridosso del terzo processo a Trieste contro il mondo sloveno e croato contro gli agitatori sloveni e croati e lui ricorda tutta la città nel buio e tutto il carso illuminato cioè la zona periferica illuminata perché si pensava che diciamo i sovversivi venissero da lì e con i cavalli di Frisia in tutta la città tanto per darvi l'idea di quello che di quello che stava succedendo ora questa diciamo questo odio che si rinfocola all'interno del mondo italiano contro contro gli slavi fino a dove arriva che risultati ha anche questo dobbiamo domandarci insieme mi pare che sono quasi fuori tempo ecco bravo ha risultati relativi nel senso che all'interno delle case si continua a parlare in sloveno e in croato in pubblico non si può ma all'interno delle case si nelle chiese i preti fanno di tutto per mantenere questa identità molto forte tenete conto che questo è diciamo un clima un clima di terrore che qualche volta viene attenuato come come si conviene a questo tipo di dittature da così discorsi voi se siete di questo di questo tenore se siete ubbidienti se siete fedeli voi noi non vi tocchiamo diceva il fascismo potete stare tranquillamente con noi vabbè però arriviamo diciamo al 1938 quando la sfida e diciamo la la persecuzione si abbatte contro i croati scusate gli ebrei e nello stesso tempo si accentua nei confronti degli sloveni e dei croati il 1938 per quest'area è assolutamente anche qui una data di rimente perché abbiamo la Germania ormai ai confini della 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 nostra regione e nel 1938 tutti gli ebrei vengono vengono perseguitati c'è la persecuzione insomma della loro identità prima della persecuzione dei corpi moltissimi vengono con con il regime nazista vengono poi portati nei campi di di sterminio di concentramento nello stesso tempo si accomuna come prima si accomunava lo slavo socialista lo slavo comunista adesso abbiamo la triade insomma slavo ebreo e comunista insomma sono diciamo opposizioni e contrapposizioni di questo di questo genere si arriva alla guerra alla guerra alla seconda guerra mondiale prima della seconda guerra mondiale c'è questo famoso terzo processo a Trieste in cui di nuovo la propaganda si gonfia e anche qui abbiamo nove condannati a morte e vengono uccisi solamente i comunisti ma questo solamente è assolutamente del tutto inadeguato perché poi dobbiamo tener conto degli anni di carcere e delle torture e di tutto quello che si combina in questa fase quindi per concludere velocemente sono già stata troppo e poi dare spazio alle domande noi arriviamo allo scontro della seconda guerra mondiale non così felici come molti andarono incontro alla prima guerra mondiale felici tra virgolette ma c'è questa diciamo tensione verso la riconquista della Dalmazia ad esempio del mare Adriatico che diventa un fatto importante e dopodiché col 6 aprile del 1941 c'è l'attacco alla Jugoslavia di cui parlerà Alessandra così saltando come un canguro va bene va bene noi ringraziamo tantissimo Anna Maria Vinci per quello che ci ha detto e illustrato io leggo un attimo una frase una frase dal libro di Enzo Bettiza Esilio che dice purtroppo per lui cioè il padre di Bettiza e per tutti noi l'Italia arrivata con le armi e con le manette in Dalmazia era l'Italia fascista riporta anche la stessa discorso che dice che nei diversi uffici amministrativi c'era il cartello minatorio qui si parla italiano e si saluta romano bene io nel preparare questa questa riunione sono incappato usiamo questo termine qua sono incappato in quel documentario della BBC Fascist Legacy eredità fascista che io non conoscevo perché in Italia non è mai stato pubblicato noi lo conosciamo da parecchio tempo eh lo so ma proprio non lo sapevo proprio non lo conoscevo eh sono eh andato su YouTube e ho fatto fatica ad arrivare fino in fondo perché un conto è leggere dei campi di concentramento per esempio quello dell'isola di Arbe un conto sapere che c'erano state sia ferratezze e roba del genere ma un conto è vederle queste cose vedere gli impiccati penzolare dalle forche ed erano forche messe e fatte dal regio esercito italiano bene Alessandra Kerseman prego attivare attivare il microfono io disattivo sì 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 ecco buonasera a tutti quanti grazie per questo invito effettivamente parlare di questa vicenda è difficile di tutta la vicenda del confine orientale anche soltanto arrivando diciamo alla seconda guerra mondiale è difficile contenerla in una conferenza di una sera e quindi capisco benissimo che Anna Maria Vinci abbia dovuto saltare alla fine molti fatti che sarebbero importanti invece che vengano conosciuti perché effettivamente questa è la più complessa vicenda del confine orientale di cui parla anche la legge del giorno del ricordo dice dopo le foglie dell'esodo si deve parlare della più complessa vicenda del confine orientale in realtà di questa più complessa vicenda in occasione del 10 di febbraio non se ne parla mai e quindi è importantissimo averne parlato in questi giorni anche in questa sera dunque siamo arrivati alla guerra con la storia che ha svolto Anna Maria Vinci la guerra che in queste terre diventa praticamente da subito fronte di guerra per il resto dell'Italia magari la guerra viene vissuta attraverso la partenza dei giovani dei ragazzi soldati al fronte o attraverso poi i bombardamenti qui il 6 aprile del 1941 quindi quest'anno ricorre fra qualche settimana l'ottantesimo anniversario abbiamo invece che attraverso il Friuli Venezia Giulia passa l'invasione della Jugoslavia insieme con l'esercito tedesco l'esercito italiano il 6 aprile del 1941 insieme con l'esercito tedesco aggredisce la Jugoslavia il 6 aprile la Luftwaffe bombarda anche Belgrado nel giro di pochi giorni l'esercito jugoslavo capitola e quindi il paese che allora era un regno viene completamente smembrato e diviso in pezzi i vari pezzi vengono assegnati alle due grandi diciamo potenze che avevano aggredito l'Italia e la Germania e poi anche ad alcuni collaboratori in questa aggressione cioè all'Ungheria e alla Bulgaria l'Italia non solo occupa una buona parte del paese ma addirittura annette interi territori annette per esempio la Slovenia sud occidentale formando la provincia italiana di Ljubljana quindi quella che attualmente è la capitale della Slovenia diventa una città italiana nel senso che c'è una vera e propria annessione quindi non solo la Jugoslavia viene aggredita senza dichiarazione di guerra ma anche avviene un'annessione nel corso della guerra tutte cose che violano anche le leggi internazionali di questo tipo poi l'Italia acquisisce altri territori sempre annettendoli lungo tutto l'Adriatico ingrandisce la provincia di Fiume con il territorio montuoso del Gorski-Kotar poi annette la provincia di Spalato e quella del Cattaro che insieme alla vecchia provincia di Zara che era italiana già dopo la prima guerra mondiale formano il governatorato della Dalmazia il Montenegro diventa un protettorato l'Albania era già stata conquistata due anni prima e in più la Bosnia Erzegovina e la Croazia diventano stato indipendente di Croazia indipendente in realtà era un nome così un enfemismo perché si trattava di un di un paese comandato dall'Ustascia Antepavelic e che aveva però dal punto di vista istituzionale un re e questo re era un un aimone di Savoia quindi un re italiano quindi provate a pensare tutta questa parte di quella che era di quello che era stato il regno di Jugoslavia in mano praticamente o sotto il controllo italiano il resto della Jugoslavia era la Slovenia nord orientale era stata annessa direttamente alla Reich quindi praticamente gli sloveni erano divisi ormai fra altri paesi la Serbia diventava un protettorato tedesco il Kosovo veniva annesso all'Albania insomma veniva fatto tutta una ridistribuzione del territorio e il paese veniva completamente smembrato questo un fatto che gli italiani non conoscono ma sarebbe invece una vicenda importantissima da conoscere perché questo smembramento queste annessioni queste occupazioni violentissime hanno avuto delle conseguenze naturalmente devastanti in tutto il periodo della guerra l'occupazione e le annessioni italiane vere e proprie durano 29 mesi cioè fino all'8 settembre del 43 e quindi questa una vicenda completamente italiana tutti i crimini di guerra che commette l'esercito italiano in Jugoslavia in questi 29 mesi sono crimini di guerra attribuibili esclusivamente all'esercito italiano anche i campi di concentramento che vengono istituiti in questo periodo numerosissimi per civili jugoslavi sono campi di concentramento in cui non c'entrano i tedeschi sono campi di concentramento gestiti da italiani questa è una cosa che bisogna ribadire perché spesso anche da quando da qualche anno si parla di campi di concentramento fascisti si confondono magari con i campi nazisti e quindi si tratta di occupazione a cui ben presto già diciamo dal maggio del 41 le popolazioni della Jugoslavia si ribellano per quanto riguarda la provincia di Ljubljana che è quella che ci interessa diciamo più direttamente per quanto riguarda il confine orientale d'Italia già in maggio si forma lo Sbobodilna fronte il fronte di liberazione che in estate diventa già attivo con azioni di opposizione e di guerriglia la repressione dell'esercito italiano diventa subito gravissima la provincia viene amministrata amministrativamente da un da un alto commissario che era un fascista squadrista triestino della prima ora Emilio Grazioli ed è dal punto di vista militare comandata dal nono dall'undicesimo corpo d'armata che era che faceva parte della seconda armata del generale prima Ambrosio e poi del generale Mario Roatta mentre invece l'undicesimo corpo d'armata è comandato dal generale Mario Robotti questi generali daranno alle formazioni ai vari reparti dell'esercito italiano che occuperanno questi territori daranno delle direttive pesantissime in particolare ricordata quella che è stata chiamata un vero e proprio va de mecum della repressione la circolare 3C che nel primo marzo del 42 il generale Roatta emanò dando le disposizioni per la repressione erano disposizioni che si rifacevano a una massima che lo stesso Roatta aveva inventato diciamo e cioè che il comportamento l'atteggiamento dei soldati italiani nei confronti della popolazione e dei partigiani non doveva essere quello del del dente per dente ma del testa per dente quindi un un aumento grandissimo del rapporto diciamo repressivo rispetto alle azioni che venivano fatte questa questa circolare 3C prevedeva l'uccisione di ostaggi prevedeva la la fucilazione degli uomini adulti che che abitavano i paesi vicino ai quali fossero avvenute azioni partigiane prevedeva l'incendio di questi paesi ogni reparto italiano aveva anche ogni formazione italiana aveva un reparto chimico e con i lanciafiamme si bruciavano i paesi poi prevedeva la deportazione della popolazione civile in campi di concentramento quindi già già nella primavera del già alla fine dell'inverno primavera del 42 cominciano le deportazioni in grande stile il primo campo di concentramento che fu istituito fu proprio nella pianura friulana il campo di concentramento di gonars un paese appunto a sud di Udine questo campo di concentramento fu anche il più grande campo in territorio italiano perché molte regioni quasi tutte le regioni italiane ebbero dei campi di concentramento per i Jugoslavi un certo numero gestiti dall dall'esercito dal ministero della guerra e altri invece di tipo un po' diverso gestiti dal ministero degli interni ma il numero fu altissimo e nei 29 mesi di occupazione della Jugoslavia si calcola che ci sia stata la deportazione di almeno 120.000 civili uomini donne vecchi e bambini in questi campi il campo di gonars ebbe una capienza aveva una capienza di circa 2800 persone ma ne ebbe fino a 6500 e in un anno e qualcosa di funzionamento del campo morirono 500 persone di fame e di malattie conseguenti alla fame ma ci furono molti altri campi di concentramento il più conosciuto fra quelli non sul suolo italiano è quello nell'isola di Arbe Arbe Rab in croato è un'isola a sud di di fiume un'isola bellissima fra l'altro si possono passare oggi delle vacanze estive molto molto belle a quel tempo invece nell'estate del 42 divenne un vero e proprio inferno circa 10.000 persone vennero in quell'estate del 42 deportate dai territori soprattutto del Gorski Kotar a nord est di fiume un territorio dove c'era stata una forte presenza delle azioni partigiane e quindi la direttiva del del governo di Mussolini e dell'esercito italiano della seconda armata era quella di fare una bonifica del territorio bisognava liberare il territorio dagli sloveni e croati per per togliere praticamente l'appoggio e il sostegno ai partigiani e quindi villaggi interi durante i rastrellamenti che si susseguirono durante l'estate diverse operazioni di rastrellamento interi villaggi vennero arrestati concentrati all'interno della piazza del paese caricati su camion e su treni e portati sulla costa e poi condotti nell'isola di Rab arrivarono ai primi di luglio praticamente con il campo che non era ancora costruito era stato soltanto in una piana dell'isola avevano messo una recinzione con delle torrette di guardia con i nidi di mitragliatrice ma non c'erano baracche non c'erano strutture di nessun tipo e infatti le persone che arrivarono all'inizio di luglio vennero sistemati in tende dormendo praticamente per terra su un po' di paglia e la situazione in questo campo divenne subito gravissima si diffusero subito malattie questo successe poi in tutti i campi di concentramento ma in quello di Arbe la cosa particolarmente grave poi successero fatti ulteriormente tragici anche a causa dell'imperversare del tempo alla fine di settembre ci fu un'alluvione nel campo dove morirono molte persone una intera parte del campo venne portata via da un torrente d'acqua che si creò in mezzo al campo insomma la situazione ad Arbe divenne per le persone che vi erano state deportate veramente tragica tant'è vero che nonostante il generale Roatta negasse che c'erano problemi in questo campo alla fine si venne a sapere fuori dall'isola lo venne a sapere la croce rossa e anche il vescovo della vicina isola di Veglia fece conoscere anche al Vaticano insomma ci furono delle pressioni internazionali presso il governo di Mussolini e Roatta decise di far qualcosa e cosa fece? Praticamente decise di trasferire la gran parte delle persone che erano nel campo di Rab di trasferirle nel campo di Gonars quindi in territorio italiano e a questo punto che la situazione anche nel campo di Gonars divenne veramente drammatica fate conto che nella notte di Capodanno fra 42 e 43 morirono in una sola notte 18 persone alla fine come dicevo a Gonars si ebbero circa 500 morti a Rab almeno 1500 anche se ci sono delle testimonianze che parlano di molti di più ma qua rimaniamo a quello che dicono i documenti quindi delle situazioni veramente drammatiche e tragiche questo senza pensare a tutti i villaggi che furono bruciati a tutti gli ostaggi che furono fucilati e a tutti gli uomini dei paesi dei villaggi che furono fucilati per impedire che venissero fatte azioni partigiane la documentazione su questi misfatti su questi crimini di guerra è amplissima proviene in parte almeno quella diciamo iconografica quella fotografica proviene dallo stesso esercito italiano che documentava spesso le uccisioni le fucilazioni proviene dalla documentazione dagli ordini che venivano emanati ho ricordato prima qual era lo spirito per cui il generale Roatta ha emanato la circolare 3C ma anche Mario Robotti il generale dell'undicesimo corpo d'armata emanava direttive anticipandole dicendo guardate che qua si ammazza troppo poco bisogna ammazzare di più poi non so per ricordare il generale Gastone Gambara che sostituì poi verso la fine dell'occupazione italiana sostituì Mario Robotti nell'undicesimo corpo d'armata che sotto un documento dei medici militari dell'isola di Arbe che lamentavano l'altissima mortalità quotidiana nel campo di concentramento aveva chiosato campo di concentramento non significa campo di ingrassamento individuo malato è uguale individuo che sta tranquillo ecco questo era lo spirito con cui fu occupata la Jugoslavia furono annessi interi territori e qua evidentemente bisogna ricordare quello che ha già anticipato la professoressa Vinci e cioè che tutte queste operazioni già del fascismo prima e poi durante l'occupazione della Jugoslavia furono animate da un profondissimo razzismo contro i popoli slavi senza questo profondo razzismo senso di superiorità della civiltà italiana eccetera non si potrebbero spiegare i crimini che sono stati commessi in questo territorio crimini che sono stati diretti perché evidentemente è lo stato italiano il regime fascista che ha aggredito la Jugoslavia ed è l'esercito italiano che con l'esercito tedesco ha condiviso questa occupazione e quindi del milione circa di morti durante la seconda guerra mondiale della Jugoslavia è direttamente responsabile lo stato italiano il regime fascista e anche l'esercito italiano poi c'è anche una responsabilità che viene attraverso quelli che erano i collaboratori collaborazionisti dell'esercito italiano come gli ustasha i cetnici cioè quelle formazioni collaborazioniste che appoggiarono l'occupazione italo tedesca e che si macchiarono a loro volta di crimini efferati crimini che sicuramente erano dovuti alla situazione della Jugoslavia che era un paese composito fatto di tanti popoli e al fatto che appunto gli occupatori italiani e tedeschi fomentarono moltissimo le divisioni fra i seloveni croati e soprattutto fra corati e serbi e quindi alimentarono moltissimo l'odio di queste formazioni collaborazioniste nei confronti delle formazioni degli altri popoli per esempio gli ustasha nei confronti dei serbi e fecero delle vere e proprie stragi però il nemico poi di tutti questi erano i partigiani e quindi contro i partigiani sono state fatte dei crimini inauditi ecco questo è quello che non si vuole che gli italiani conoscano perché nei confronti di questa vicenda dell'occupazione italiana della Jugoslavia c'è stata una rimozione dolosa non semplicemente frutto di dimenticanza di ignoranza o cose del genere una i fatti che lo dimostrano sono tantissimi senza andare a guardare quello che è successo subito dopo la guerra basti ricordare quello che è successo negli ultimi trent'anni appunto con il documentario che ha ricordato Botti cioè il Fascist Legacy che era stato acquistato dalla Rai tradotto doppiato era stato tutto un lavoro per renderlo diciamo proiettabile in Italia ma la Rai non lo ha mai proiettato diceva la professoressa Vinci che noi qui in Friuli e in Venezia Giulia lo conoscevamo già da molti anni ma attraverso delle edizioni che non so si potrebbero quasi definire clandestine cioè quindi in una maniera quasi da sì appunto clandestina e poi è stato alcuni anni fa è stato proiettato in parte dalla Sette in una trasmissione del professor Sergio Luzzatto mi pare ed ora sì si può vedere su Sky si può vedere su YouTube eccetera ma vederlo nel 93 quando la RAI lo aveva acquistato sarebbe stato molto diverso un altro grave episodio di censura è quello della relazione prodotta dalla commissione di storici italiani sloveni che era stata istituita anche questa nel 93 con un accordo fra governo italiano e il governo dell'allora da poco costituita Repubblica Slovena avevano avuto un'idea insomma che si può condividere o no ma insomma che aveva un senso cioè dal momento che nel passato c'erano stati incomprensioni anche storiche l'idea era quella di costituire una commissione di storici italiani e sloveni che studiassero assieme le vicende diciamo perlomeno del 900 del territorio per arrivare a una storia che facesse da base ai futuri rapporti diplomatici fra i due paesi l'accordo prevedeva anche che il risultato di questa commissione dovesse venire acquisito ufficialmente dai due paesi questa commissione ha lavorato per sette anni nel 2000 ha prodotto la relazione il governo sloveno l'ha acquisita il governo italiano invece l'ha considerata praticamente carta straccia e qualche anno dopo hanno preferito fare il giorno del ricordo dimenticando appunto completamente tutta questa parte della storia le cose da dire sarebbero naturalmente ancora tante ma credo di aver delineato così la gravità di quello che è successo e delle responsabilità dell'Italia aggiungo soltanto questo che purtroppo non è stato soltanto il regime fascista perché se voi avete seguito quello che ho detto ho detto che l'occupazione della Jugoslavia è terminata con l'8 di settembre da parte dello Stato italiano e i campi di concentramento hanno durato fino all'8 di settembre quindi non sono finiti con il 25 luglio cioè con la caduta di Mussolini e con la caduta ufficiale del regime fascista ma le deportazioni e i campi di concentramento sono continuati anche sotto il governo Badoglio e se i campi di concentramento sono stati smobilitati è stato soltanto perché l'esercito italiano è capitolato e quindi anche i soldati che facevano parte dei contingenti di guardia dei campi di concentramento sono fuggiti a loro volta per non essere arrestati dai tedeschi che intanto stavano invadendo l'Italia e quindi è una vicenda che che travalica addirittura il il fascismo e poi attraverso l'istituzione al nord della Repubblica sociale e nella nostra regione dell'Adriatice Schustenland va avanti ancora attraverso il collaborazionismo repubblichino e fascista con l'occupazione tedesca quindi è una vicenda che è molto lunga e non e finisce soltanto nel 45 con la fine della seconda guerra mondiale e questo se voi pensate dà un senso anche a tutto quello che è successo dopo magari se ci sono delle domande potrò rispondere certo grazie 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 mille Alessandra Kersevan adesso io invece adesso lascio la parola al professor Focardi e anche qui mi permetto di leggere dalla introduzione al suo libro i temi dell'elaborazione della memoria del fascismo della seconda guerra mondiale del loro uso pubblico e politico in Italia sono al centro dei miei interessi di ricerca da quasi vent'anni infatti si parla di questa nel libro memoria condivisa memoria divisiva e tutto questo anche secondo quello che dice Focardi deriva dal fatto che in Italia è mancata la Norimberga italiana è mancata la Norimberga italiana e questo ha condizionato tutta la memoria collettiva a proposito di memoria collettiva io non voglio trasformare questa questa serata nelle memorie di uno tuagenario però io ho ho trovato nella sulla scrivania di mio padre e ce l'ho ancora io qui un fermacarte fermacarte di bronzo in cui c'è scritto pro casa di lavoro per i profughi della Venezia Giulia nel Trentino sul retro c'è scritto a ricordo del sacrificio compiuto dai fratelli della Venezia Giulia e Zara 20 febbraio 1947 ecco qui si usa la parola sacrificio mentre invece nella nella nel discorso come è venuto specialmente dopo l'istituzione della giornata del 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 ricordo questo sacrificio che poi è stato causato dalla guerra aggressiva di Mussolini questo se lo dimenticano sempre di dire è stato è diventato pulizia etnica e genocidio infatti anche qui nell'articolo sempre della Repubblica Raul Pupo vede virgolette il tentativo di riappropriazione di quella storia da parte di una destra nazionalistica che si erge adutrice di una memoria esclusiva ecco diciamo un po' cos'è questa questa memoria collettiva che è arrivata in Italia così divisiva ecco cosa ci può dire Filippo Focardi innanzitutto grazie Agostino Botti per l'invito grazie all'Ampi Francoforte per l'invito e anche soprattutto per aver organizzato questo incontro così interessante tu hai letto appunto un passaggio dell'appello che abbiamo fatto che ho fatto insieme a due colleghi di Padova Giulio Albanese e Carlo Fuglian una lettera aperta al presidente della Repubblica Mattarella che è stata diciamo così lanciata dall'articolo poi di Simonetta Fiori pubblicato martedì scorso un articolo molto incisivo devo dire che ha avuto anche molto spazio e sta cominciando a muovere qualcosa anche oggi mi hanno detto è uscito un altro articolo in questa linea su domani un articolo di Sussini di un giovane storico che si occupa di show a livello europeo e sì noi ci siamo mossi perché ci aveva particolarmente colpito questa mozione del Consiglio regionale Veneto approvata il 24 febbraio che non ha fatto che rilanciare quanto già il Consiglio regionale Fiori di San Giulio aveva fatto nel 2019 in questo caso forse con andando un passo oltre perché in questa mozione nella parte iniziale sono quelle parti documenti in cui si dice considerato che considerato che ecco loro scrivono considerato che i morti nelle forbe sono 12.000 gli esuli gli espulsi dalle regioni da Fiume dall'Istra dalla Dalmazia sono 350.000 ecco andando avanti appunto chi non ha sostanzialmente si fa capire in maniera esplicita e chi non resta su questa sorta di verità ufficiale di questa sorta di verità di Stato può essere tacciato di negazionismo o riduzionismo come è stato detto proprio all'inizio del nostro incontro e andare incontro a che cosa? Beh una delle conseguenze è stato detto l'hai detto Agostino cioè vengono bloccati i finanziamenti no? a quegli enti istituti che hanno queste posizioni ma c'è una una questione ulteriore molto più gravuosa molto più pericolosa vale a dire si minaccia quasi in modo intimidatorio il ricorso alla normativa del 2016 antinegazionista approvata al Parlamento italiano sulla base di una decisione quadro europea che prevede misure penali per chi nega sostanzialmente la Shoah allora non c'è solo la minaccia di un taglio dei finanziamenti a chi ha posizioni cosiddette riduzioniste ma si minaccia anche di ricorrere a sanzioni penali in ultima istanza dunque ecco come storici abbiamo preso questa iniziativa tra l'altro rispondo in questo modo ho visto nella chat che prima c'era Vico Zanetti che diciamo mosso giustamente da indignazione nei confronti di questi pronunciamenti politici aveva si era un po' lamentato dice ma perché me lo sono scritto perché il mondo accademico storico non è insorto in modo ovviamente è vero forse non è insorto in modo ovviamente questo è giusto però insomma un po' siamo insorti perché questa iniziativa l'abbiamo presa tra l'altro ci state dando una mano anche voi perché la raccolta di firme è ancora aperta le firme sono state raccolte le trovate sul sito dell'istituto Parri e lì vedete diciamo i primi sottoscrittori e quelli che si stanno aggiungendo quindi lì ci siamo mossi su questo perché ovviamente si configura una verità di parte diciamo con un timbro ultranazionalista direi molto tradizionale rispecchia diciamo tutta una serie di posizioni che sono state anche indicate prima di me da Anna Maria Vinci e dalla Ketzeman e appunto il tentativo quasi di istituzionalizzare una memoria di parte fare una memoria che ha una connotazione politica forte che secondo me va anche a detrimento del anche del doveroso riconoscimento delle vicende sofferte di quell'area e di quegli italiani e quelle italiane che hanno sofferto appunto hanno sofferto l'espulsione e tutto quello che segue ebbene questa memoria viene come dire calata dall'altro si vuole imporre una memoria a cui tutti devono sostanzialmente ubbidire perché altrimenti vanno incontro a sanzioni e non è l'unica memoria che si è affermata dopo il 2004 perché indubbiamente questa memoria ha avuto dopo l'istituzione 2004 l'istituzione il giorno del ricordo c'è stato un predominio di una memoria con questi tratti nazionalistici e contrappositivi c'è stato a un certo punto però un tentativo un po' tardivo ma per fortuna insomma arrivato da parte dei presidenti della Repubblica di proporre una memoria diversa una memoria europea riconciliata io l'ho chiamata anche nel documento che ho inviato a Mattarella c'è una memoria fondata sul riconoscimento il mutuo riconoscimento da parte italiana slovena e croata delle violenze contrapposte che sono state le violenze reciproche perché ovviamente prima ci sono quelle italiane e va detto e giustamente lo stiamo dicendo poi però ci sono anche le foibe ci sono il dramma dell'esodo eccetera quindi una memoria che non diciamo non non gira gli occhi la testa da un'altra parte no no si guardano quegli episodi si ricordano quegli episodi da entrambe le parti ma guardando avanti in una prospettiva di collaborazione europea tra paesi che sono nell'unione europea ebbene questa memoria forse non ha circolato un gran che in Italia però no è stata anche molto ostacolata il primo tentativo di muoversi in questa direzione lo fece addirittura Ciampi io l'ho scoperto devo dire l'ho scoperto e l'ho scritto nel mio libro l'ho scoperto leggendo le memorie del suo addetto diplomatico Antonio Curipurini all'inizio del 2005 Ciampi aveva organizzato un viaggio lui parlava di un pellegrinaggio civile un viaggio di riconciliazione insieme al presidente Loveno a quello croato di allora che avrebbe dovuto fare tappa appunto nei luoghi della violenza riciclata avevano previsto di andare a Gonarz di cui ha parlato prima Alessandra Ketzman lager italiano di andare poi alla riserva di San Sabba e non occorre spieghi che cos'era di San Sabba passare da Bassovizza e finire all'isola di Brioni dove doveva essere firmato un trattato di collaborazione politica, economica e culturale tra i tre paesi e avevano già organizzato tutto in un incontro la prefettura di Trieste il gennaio 2005 ebbene questa cosa non è mai stata fatta perché si è opposto alla Farnesina il ministero degli esteri italiano allora diretto Daffini pare appunto si sia intervenuto bloccando quest'operazione perché a suo dire era potenzialmente lesiva degli interessi italiani e delle comunità italiane degli espolti cioè dovevano prima essere fatte delle concessioni di natura politica da parte della Slovenia per diciamo imboccare questa strada di riconciliazione una strada che poi ha ripreso non subito ma dopo un po' Napolitano nel 2010 appunto in occasione del famoso concetto della pace a Trieste luglio 2010 concetto diretto da Riccardo Muti con un'orchestra composta da italiani sloveni e croati in quell'occasione è stato fatto quel passo che aveva immaginato Ciampi è stato realizzato a Napolitano i tre presidenti sono andati prima a ricordare il Narodni Dom Narodni Dom ma anzi ho imparato l'accento stasera e poi sono andati insieme a ricordare il monumento in diciamo in memoria degli italiani espulsi e da lì è iniziato un percorso appunto con Napolitano che all'inizio però devo dire nel 2007 invece aveva iniziato con un passo falso cioè con un intervento in cui diciamo era con forti imprinting nazionale o se non nazionalista ebbene questo è quindi una memoria in qualche modo alternativa poi ha trovato espressione questa dicevo di taglio europeo una memoria europea di conciliata che ha trovato a piena espressione nel gesto di Mattarella della scorsa estate la visita congiunta con il presidente sloveno a Trieste ecco resta però chiaramente siamo nel pieno di una contrapposizione di un uso politico della memoria questo è evidente da parte da parte della destra con queste mozioni dei consigli regionali resta una questione aperta di cui abbiamo parlato stasera e vale la pena forse spendere due parole prima di lasciare spazio ai nostri ascoltatori cioè la questione del dello scarto che abbiamo fra la storiografia e l'opinione pubblica cioè quello che hanno scritto gli storici soprattutto negli ultimi venti anni ad esempio Alessandra Kessman proprio ricordo il libro sui lageri italiani sul sistema di campi di concentramento italiani i volumi degli amici e colleghi dell'istituto di Trieste come Anna Maria Vinci e molti altri i volumi di Erika Gobetti che credo avete ospitato anche recentemente o quelli di altri storici non solo italiani che hanno messo a fuoco la dimensione della persecuzione antislava appunto delle occupazioni dei crimini in Jugoslavia ebbene gli storici hanno fatto il loro dovere però cosa è arrivato di questo all'autore pubblica se io prendo un ragazzo in una scuola piuttosto che una persona in un bar che cosa sa dell'occupazione italiana a Jugoslavia dei crimini italiani probabilmente niente o quasi niente pochissimi saranno quelli che conoscono o hanno sentito dire questo perché non c'è stato un dibattito pubblico questo è il punto perché non abbiamo avuto un dibattito pubblico certamente un primo elemento importante c'è stata una costante vigilanza delle istituzioni per fare in modo che di certe cose non si parlasse è stato ricordato il caso emblematico del documentario Fascist Legacy con tutta la vicenda che ha ricordato appunto Kershavan non è stata detta una cosa che non appena fu mandato in onda nell'89 dalla BBC la reazione ufficiale italiana fu una nota diplomatica di protesta inviata a Londra quindi questo per dire come si vedeva la questione e poi la RAI appunto l'ha tradotto in italiano l'amico Massimo Sani un vecchio documentarista ha curato l'edizione italiana ma non è stata mai appunto trasmessa per evidenti vetri politici più volte denunciati ma è la stessa perché è molto importante quali sono i canali comunicazione per il grande pubblico della storia? beh innanzitutto la televisione è inutile prendiamo la televisione beh allora sapete quando per la prima volta la tv italiana la RAI ha parlato dei crimini italiani in prima serata perché documentari li mandava in onda ma dopo mezzanotte o la mattina tra le 6 e le 7 la prima trasmissione in prima serata in RAI è stata nel 2015 aprile 2015 eh vi dico era c'era anche io che ho preso parte era una trasmissione diretta a Tommaso Cerno e l'Italia andò in guerra il titolo di dei è una trasmissione però singolare perché si parlò di crimini italiani anche in maniera eccessiva anche sbagliando perché ad esempio si parlò di arbe e tanto la scenografia era tutte composta con immagini di italiani impiccati che penzolavano scusate con immagini di forche italiane invece italiane con vittime di italiani che penzolavano e però dicevo era pure addirittura eccessiva perché in quell'occasione si disse che anche gli ebrei che si trovavano ad Arbe erano vittime degli italiani invece quella era una categoria diversa gli ebrei erano stati messi in salvo e mi ricordo ancora che intervenne in diretta da Monio Vadia e disse erano anni che aspettavo questo momento cioè il momento in cui la RAI per la prima volta in prima serata parlasse di questo tema ripeto occasione forse persa perché nella stessa puntata una parte della trasmissione fu dedicata a dimostrare che gli italiani comunque erano stati eroici in guerra la prima parte era gli italiani hanno commesso crimini di guerra sì gli italiani sono stati eroici durante la guerra sì e c'erano le testimonianze dei parà Adela Lamey nelle famose insomma quindi capite come anche in questo caso si è trattato in occasione pezza e poi mi è capitato ad esempio a me di partecipare l'anno dopo a una trasmissione quella del tempo e la storia con diretta da Michela Ponzani dove abbiamo fatto una puntata anche questa è andata in onda in prima serata su il cosiddetto bravo italiano il mito del bravo italiano e vi faccio una confessione io ho saputo tre giorni fa attraverso canali Rai che la Rai non mi ha più chiamata cosa di più chiamata cosa di cui mi ero accorto perché in quell'occasione un giornale della destra scrisse un trafiletto in cui criticava il fatto che in quella trasmissione appunto con poca di si fosse parlato dei crimini italiani non so forse Alessandra che sono avuto esperienze analoghe mi ricordo una sua puntata clamorosa con Bruno Vespa in cui giustamente mise in rilievo che quella era una puntata per il giorno di ricordo quella immagine che mostrava dei soldati che fucilavano dei civili non riguardava le foibe ma era il contrario quelli erano soldati italiani che fucilavano sei civili sloveni e non so se lei è stata invitata spesso dopo quell'episodio no posso confermare che non sono stata ecco immaginavo immaginavo una cosa quindi ecco c'è questo e poi c'è per concludere la grande questione della mancata Nuremberg italiana cioè i mancati processi criminali di guerra italiana italiani che è una questione molto delicata perché chiama direttamente in causa le foibe perché come sta l'intreccio qui cerco veramente di essere breve ve lo dico in tre minuti alla fine della guerra l'Italia era tenuta a consegnare i propri criminali di guerra tenuta sulla base sia dell'armistizio sia del trattato di pace articolo 45 l'Italia però rivendicò l'Italia democratica antifascista in quel caso sto parlando ora del 46 47 e effettivamente c'erano 729 italiani iscritti accusati dalla Jugoslavia iscritti nelle liste del United Nations World Crime Commission cioè la commissione di crimini di guerra nelle Nazioni Unite un'altra cinquantina furono richiesti direttamente da Belgrado a Roma attraverso canali diplomatici tradizionali ebbene l'Italia disse no i miei criminali li processo io rivendicò il diritto di processare i suoi criminali fece una commissione apposita e effettivamente inscrisse non tanti una quarantina di nomi di cui 33 civili e militari per crimini commessi in Jugoslavia in una lista di criminali di guerra italiani secondo gli italiani si fecero indagini preliminari richieste e tutto era pronto nel 48 per fare i processi poi però che succede succede che Tito rompe con Stalin nel giugno del 48 e diventa diciamo giocoforza è una pedina del blocco occidentale e quindi non c'è più alcuna pressione jugoslava per avere gli italiani e però la magistratura militare italiana a norma di legge avrebbe dovuto fare i processi ugualmente e allora si trova un escamotage sono gli avvocati difensori trovano un escamotage qual è per bloccare tutto qual è questo escamotage è un articolo del codice penale militare di guerra l'articolo 165 che prevede la possibilità di processare i nostri criminali di guerra se anche lo Stato estero processa i suoi per crimini commessi contro italiani si sta parlando proprio delle foibe allora non è una cosa a caso perché nel frattempo da parte italiana hanno state preparate una contro documentazione sulle foibe cioè l'Italia aveva sostanzialmente provato a scaricare le colpe sulla Jugoslavia a mettere la Jugoslavia sul banco degli accusati voi ci accusate di crimini di guerra guardate che anche voi ne avete fatti soprattutto le foibe anche alcune violenze contro militari italiani durante l'occupazione e addirittura l'Italia aveva preparato delle controliste di criminali di guerra io ho trovato l'ho trovato al ministero degli esteri sono circa 180 nomi in cima a Tito con accuse molto forti violenze omicidi addirittura scempio di cadaveri e cannibalismo si trova indicato con accenti che richiamano anche molto anche di quel razzismo antislavo di cui si diceva prima ebbene nel 1951 sulla base di quell'articolo del codice che vi dicevo semplicemente la procura militare italiana chiude archivia le inchieste e non fa i processi è finita qui? no non è finita qui perché nel 2008 un giudice un ex giudice militare Sergio Dini dopo l'uscita di un documentario importante questo ve lo segnalo che non riguarda l'Ugoslavia riguarda la Grecia in primis ma è molto importante che è la guerra sporca di Mussolini sulla strage di Domenico in Grecia ebbene Sergio Dini giudice ex giudice militare di Padova fa un esposto alla magistratura militare italiana dicendo cari signori noi da Pripke in poi quindi dalla metà degli anni 90 abbiamo ripreso i processi contro i tedeschi giustamente e non sarebbe giusto fare lo stesso contro i criminali di guerra italiani che hanno commesso crimini analoghi a quelli commessi dai tedeschi e poi aggiunge una cosa fondamentale dice finora i processi non li abbiamo fatti perché c'era quest'articolo che vi dicevo bene quest'articolo dal 2002 non esiste più nel codice perché il codice è stato riformato e l'articolo 165 non c'è più allora perché non facciamo i processi e effettivamente c'è un timido timidissimo tentativo di Antonino Intelisano giudice che quello che ha fatto il processo a Pripke fra l'altro che apre un'inchiesta contro i gnoti però che cosa fanno le autorità italiane cosa fa Intelisano per la decisione ritira fuori la vecchia lista di cui avevo parlato di quei 40 nomi che è una lista degli anni 50 che conteneva i nomi di generali come Mario Roatta come Vittorio Ambrosio come Giuseppe Bastianini il governatore della Dalmatia e tutte persone chiaramente decedute già da vent'anni trent'anni era ovvio che fosse così e quindi constatato che tutti sono morti chiude l'inchiesta e quindi finisce questo finisce lì questo diciamo tentativo tardivo di rimettere in piedi i processi e questo ha delle conseguenze importanti perché se si fossero fatti ovviamente prima al suo tempo alla fine degli anni 40 all'inizio degli anni 50 tutto questo avrebbe obbligato in qualche modo il paese un grande processo sui crimini di guerra a confrontarsi con quella pagina lì ma sarebbe stato avrebbe avuto lo stesso effetto probabilmente negli anni 90 o ancora negli anni 2000 invece in Italia non si fanno ovviamente voi state in Germania e conoscete bene la situazione tedesca e quanto invece sia stato fatto in Germania dalla stessa magistratura tedesca e quanto questi processi abbiano contribuito a una presa di coscienza ma non c'è solo la Germania ad esempio anche la Francia pur con ritardo pur in maniera molto 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 recalcitrante negli anni 90 fa due grandi processi contro diciamo funzionari di Vichy contro Paul Touvie contro Maurice Papon processi soprattutto quello contro Papon che suscita e come dibattito e attenzione ecco in Italia questo non è stato possibile e dal punto di vista proprio del giudiziario non è più possibile non lo sarà più quindi dobbiamo trovare altri altri canali e ovviamente gli storici sono chiamati a un impegno una consapevolezza importante sarebbe ovviamente il rapporto con la scuola questo è molto importante così però come sarebbe importante un'attenzione una disponibilità da parte delle istituzioni parlavo prima della tv tv di stato parlavo anche del ruolo della presidenza della repubblica vediamo noi l'appello a Mattarella l'abbiamo fatto vediamo se rispondi grazie Filippo Focardi allora io vorrei vorrei dare un paio di risposte un paio di risposte c'è una l'ultima buonasera volevo chiedere quale fu storicamente il ruolo della sinistra italiana nel condannare questi fatti drammatici operati dal regime fascista questa è una domanda poi ne mettiamo un'altra dentro si parla che la Germania ha fatto i conti con il suo passato questo è stato appena detto ecco quanto ha influenzato la non esecuzione dei processi fascisti e dei militari il perdono di Togliatti ecco diciamo queste due domande chi è che vuole vuole rispondere posso posso intervenire certo dopo volevo dire qualcosa anche se una cosa dolorosa da dire diciamo che insomma non so cosa si possa intendere oggi con sinistra se parliamo di quella che era la sinistra subito dopo la fine della prima della seconda guerra mondiale negli anni 50 60 si trattava soprattutto di partito comunista partito socialista e poi c'erano altri piccoli partiti ma sostanzialmente erano erano questi diciamo che l'antifascismo non ha fatto secondo me nel dopoguerra tutto quello che avrebbe dovuto fare per far conoscere la realtà dei crimini di guerra italiani in Jugoslavia i motivi sono naturalmente tanti però è certo per esempio che dei campi di concentramento fascisti si è cominciato a parlare appena negli anni 90 il campo di di Gonars per esempio a Gonars è stato costruito un grande monumento nel 1973 al tempo delle trattative fra Italia e Jugoslavia che portarono al trattato di Osimo e prevedeva anche la Jugoslavia aveva chiesto che venissero costruiti dei monumenti in Italia per raccogliere Jugoslavi morti nel nostro paese sono stati fatti a spese della Jugoslavia e e quindi sarebbe stata già quella un'occasione per parlare di queste vicende a Gonars ogni anno da quella volta il comune ha il compito l'incarico di fare una commemorazione al primo di novembre e vengono anche delegazioni prima dalla Jugoslavia adesso dalla Slovenia e dalla Croazia è presente anche l'AMPI sono presenti uomini politici regionali eccetera però questa questa occasione di commemorazione per esempio non è mai diventata un un fatto un fatto importante un fatto in cui da far conoscere alle scuole per esempio in tutta Italia o appunto da parlarne alla televisione eccetera questo probabilmente è anche perché il stesso mondo antifascista non ha fatto tanto affidamento sull'importanza di questa di questa cosa i motivi sono 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 tanti uno per esempio è che immediatamente negli anni successivi alla guerra il l'immagine della resistenza del popolo italiano che aveva saputo attraverso la resistenza così compensare anche tutto quello che il fascismo aveva fatto l'idea appunto che era importante parlare soprattutto di quello che l'Italia aveva saputo riscattare dopo l'otto di settembre secondo me ha fatto sì che si dimenticasse di quello che l'Italia come fascismo aveva invece commesso e questa è una cosa che è andata avanti poi nei decenni successivi quando l'allontanamento dalla guerra faceva sì che tante cose non venissero più ricordate c'è anche il motivo del naturalmente che nel che nel 48 con con la crisi del del Cominform e la cacciata diciamo della Jugoslavia dal dal Cominform e quindi anche la divisione all'interno del mondo socialista e il fatto che il Partito Comunista si fosse schierato diciamo contro la Jugoslavia ha fatto sì che probabilmente non ci fosse interesse a mettere in evidenza come la Jugoslavia fosse stata un paese aggredito e avesse subito gravissimi danni tantissimi morti e vittime a causa proprio dell'esercito italiano quell'esercito italiano che intanto nel nel dopoguerra era diventato un esercito che appunto era stato ripulito di tutte le di tutti i crimini in quanto doveva far parte del mondo occidentale dei paesi diciamo del del blocco occidentale e quindi bisognava in qualche maniera a far dimenticare anche i crimini quindi ci sono stati una serie di convergenze di vario tipo che hanno fatto sì che in Italia non si parlasse poi c'è anche un fatto un po' scusa culturale scusa un attimo Alessandra siccome stiamo arrivando verso la fine vorrei c'è Anna Maria Vinci vorrebbe dire qualcosa sì io concordo con Alessandra su quanto ha detto ricordando poi il peso della guerra fredda e il fatto il processo ai partigiani i processi ai partigiani nell'immediato secondo dopo guerra non credo invece che l'amnistia togliati che poi è stata tirata di qua e di là mentre in realtà prevedeva delle cose molto specifiche non un allargamento non un allargamento così importante a favore dei crimini nazisti poi c'è ancora un'altra cosa che secondo me va tenuta presente l'esercito italiano nel 43 si spalda e diventa preda della e diventa preda diciamo delle angherie naziste ricordiamo Cefalonia ricordiamo quello che succede in Grecia quello che succede anche nella ex Jugoslavia e probabilmente l'opinione pubblica si sposta a favore di questo buon italiano contro il cattivo tedesco si sposta anche in quel momento lì e naturalmente le forze antifasciste che come dire si si adeguano al modello occidentale non hanno coraggio non hanno la forza in quel momento di opporsi fanno dimenticare e mettono sotto il tappeto tutto quello che l'Italia aveva fatto nella Slovenia in Jugoslavia con altre ferratezze anche durante il periodo fascista insomma perché neanche quelle vanno dimenticate volevo solo ricordare che oggi sul giornale c'è di nuovo la famosa foto in cui si vedono in cui si dice che i soldati jugoslavi fucilano gli italiani ed è esattamente il contrario e la retrodatta la fanno retrodattare alla prima guerra mondiale tutto questo per far capire cosa possono fare gli storici non lo so prendere per le orecchie Paolo Mieli o cose di questo genere è un po' difficile è incredibile quella foto anche un ragazzino le riconosce che sono gli eletti degli italiani della seconda guerra mondiale la prima guerra mondiale gli eletti erano diversi vabbè diciamo sì però posso dire questa cosa qua quando io durante la trasmissione di Porta a Porta ho rilevato questa cosa qua a un certo punto erano presenti anche il professor Raul Pupo e un altro storico no io ho chiesto al professor Raul Pupo professore dica lei qualcosa anche e lui ha detto sì è vero si vede subito che sono soldati italiani e basta cioè su questa cosa qua bisognava fare in Italia una grande campagna perché se gli italiani non riescono a riconoscere gli elmetti del loro esercito e li attribuiscono ai partigiani jugoslavi vuol dire che c'è un grave problema culturale in Italia non è soltanto storico certo va bene io direi che siamo arrivati ormai alla conclusione e quindi io ringrazio tutti mi permetto però di dire una cosa alle mie spalle c'è Mazzini Mazzini era per l'Europa dei popoli e per il rispetto di tutte le nazionalità va bene adesso ma questo come vecchio Mazziniano questo concordo come vecchio Mazziniano poi quello che ha detto poi quello che ha detto è stato distorto ecco è stato distorto in effetti benissimo allora io ringrazio tutti quanti ringrazio Anna Maria Vinci ringrazio Alessandra Kersevan ringrazio Filippo Focardi e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito mi dispiace che molti hanno scritto dei messaggi di elogio per questa per questa trasmissione c'è addirittura Moretti dall'ampi di Martellago che chiede se per caso non potessimo rifare un'altra trasmissione che vada dal 43 al 47 va bene su questo ci penseremo d'accordo allora grazie a tutti e grazie a voi grazie grazie arrivederci arrivederci ciao a tutti vederti saluti a tutti ciao a tutti